Siamo a Losi Park, seconda edizione del Canta Roma, siamo con il grandissimo Riccardo Paolucci, grande, lasciamelo dire perché il cuore è grande, sempre presente a queste iniziative importanti, vuoi per beneficenza, vuoi per ricordare i grandi miti della canzone romana, della canzone napoletana, in questo caso romana, Riccardo Paolucci, grande artista, grande uomo di intrattenimento, diciamolo pure, grandissimo intrattenimento come piano bar, come feste private, oggi sei qui per? Per cantare una canzone mia, romana, sentitola Due Stelle, l'ho fatto volentieri per Roberto, per te, ma pure per incontrare amici che ho qua, cantanti, come Corrado, poi c'è l'Anfranco Giancenti che è un mito proprio, non si può dire di no, quindi poi con questa bella organizzazione, con tutto che ho abbastanza tosse, allergia, però non potevo mancare, non mi avrebbe fermato neanche la febbre. Riccardo, dove possono trovarti, insomma, gli amici che sono appassionati di musica, di intrattenimento, di musica romana, napoletana? Noi abbiamo una pagina a Facebook, Ricky Andori, oppure sulla mia e-mail, oppure vi lasciamo il mio recapito, la mia e Roberto Frizi, che lo do, comunque se fanno su Facebook cliccano Ricky Andori e lì ci sono le serate dove andiamo. Bene, bene. Allora, con Riccardo Paolucci, al momento è tutto, lo ascolteremo dopo, dopo la sua performance e soprattutto grazie per tutto quello che fai. Lo faccio col cuore. Per le persone, per la musica e per i momenti di aggregazione. Grazie. Al momento è tutto, Atlas Orvis TV, al prossimo appuntamento. Grazie a te, Guarisi, grazie a te.